L'UNCEM Nazionale e L'UNCEM Campania organizzano a Pestum martedì 16 aprile alle ore 10 presso il centro congressi Ariston un incontro che vedrà riunire i vertici della protezione civile nazionale L'UNCEM e la regione Campania per fare il punto della situazione sul loro ruolo nei territori locali. Partner della giornata di approfondimento è la BCC di Aquara, sempre vicina agli enti montani e alle politiche ambientali del territorio salernitano. Partecipa all'evento, con le conclusioni il capo della protezione civile nazionale Angelo Borrelli che si confronterà con i volontari, gli amministratori e gli operatori del territorio attraverso una riflessione sulle attività della protezione civile in montagna per la salvaguardia e la tutela del territorio e delle comunità. Interverranno inoltre i rappresentanti della prefettura di Salerno, della regione Campania, dell'UNCEM nazionale, delle comunità montane, della provincia, della protezione civile regionale ma anche gli operatori del settore, i volontari, gli operai forestali e i sindaci. Verrà inoltre allestita una mostra dei mezzi AIB e i mezzi speciali. La protezione civile nazionale con l'UNCEM hanno inoltre siglato con i comuni e le comunità montane del territorio un protocollo d'intesa che verrà presentato nel corso dell'evento. L'iniziativa si inserisce nell'ottica della diffusione di una cultura della protezione civile per la conoscenza della pianificazione dei rischi sui territori montani tesi alla salvaguardia delle comunità e a tutela dell'ambiente.